Il mio nome è Daniel Grandis, sono responsabile agro-service e prog manager per Sud Europa e Turchia. La semina a ratio variabile KWS è una soluzione di precision farming che si innesta in una serie di applicazioni che la società vuole fornire ai propri clienti nell'ottica di migliorare sempre di più le proprie produzioni e qualità a livello agronomico. Il sistema di elaborazione dei dati consiste nell'acquisizione di un insieme di informazioni satellitari. Queste informazioni vengono raccolte giorno dopo giorno per un periodo di tempo che può variare, può arrivare fino ai 5 anni e ci consente di avere una visione continuativa non solo dal punto di vista di immagine ma anche altre informazioni di tipo più tecnico che ci fanno visualizzare in che maniera le culture in campo evolvono attraverso la nata agronomica. Queste informazioni possono essere mediate e inserite all'interno di un sistema di elaborazione possono originare una mappa di vegetazione. Una mappa di vegetazione ci fornisce un'informazione rispetto alla potenzialità di campo di una qualsiasi cultura, infatti non siamo connessi a una cultura specifica. Abbiamo modo di elaborare i dati a prescindere dalla cultura che è in campo. I vantaggi per un agricoltore sono quelli di poter comprendere e conoscere a pieno il potenziale del proprio ambiente agricolo. Infatti attraverso l'utilizzo di queste mappe di vegetazione abbiamo un'informazione molto dettagliata dei potenziali di un areale mappato. In questa maniera possiamo trasferire queste informazioni in un secondo step e elaborarle in modo tale da applicare un quantitativo di seme congruo all'ambiente in cui andiamo a lavorare.